Salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata del minichame in minecraft e voglio ritornare a lanciare bombe come se non ci fossero domani Sì siamo di nuovo ancora qui ho 3123 gemme non voglio prendere gli armor perché mi piace più il jumper il jumper kit per saltare ovunque e dovunque con un doppio salto fantastico in modo da salire più in alto e poter lanciare bombe in una maniera più adeguata agli standard di questo gioco Tranne se non ci sia tipo quella mappa in cui non si vede un cacchio nel senso non c'è niente è piatta ultra piatta lì te la prendi un po' dentro diciamo Ecco avete capito quindi prendiamo i nostri gadget e spariamo fuochi d'artificio per festeggiare questo game Spara fuoco, spara fuoco, spara fuoco, fini di fuochi 3, 2, 1 e ci siamo partiti Ok ok ci siamo ok 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 devo salire lì sopra Metto qui Ci sono Ok troppo in avanti troppo addosso a questo E lanciamo bombe Non a caso ma cercando di colpire L'abbiamo preso L'abbiamo preso è morto quello No cacchio io ho sparato una bomba a fianco ecco un'altra Com'è possibile Mi metto un po' più qua dietro Stanno altri lì Alcuni con l'armatura Dai 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 che ce la facciamo Dai 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 Uno qui davanti Togliti che non vedo Togliti che non vedo Metti io davanti Oddio sono caduto giù E adesso Via va bene qua Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oddio questa è la mia vappa preferita Con 3 TNT Con 3 TNT abbiamo vinto Ho fatto il terzo posto Quindi non c'è male 3156 gemme Caro armatura Mettiamoci l'armatura Li faccio vedere Mi ci mettiamo l'armatura E basta Siamo nei rossi Va bene così Siamo nei rossi E direi Che a questo punto Ci prendiamo delle enderpearl E cadiamo giù Che bello volare con le enderpearl Vola enderpearl No finito Che cacchio di musica è questa Oh stiamo sulla nave Stiamo sulla nave Stiamo sulla nave Ah io non posso salire sopra Quindi me la prendo un po' Nell'ano diciamo Oddio Cadono bombe Arrivano bombe Io sto in una posizione un po' Brutta possiamo dire Vedo quello lì Con la cosa pure lui argentata Non ci arriva la bomba lì Arriva una qui Ok L'armatura funziona Ma quella ci ha mirato Quindi dobbiamo scappare Ce l'abbiamo fatta C'è uno che vuole No cacchio Qui sotto non va bene Oh Attento a non cadere giù eh Facciamo come alla fine dell'altra volta Oddio Che cos'è che Benneggia La lag Eccolo lì sopra Quello Non lo prendo Non lo prendo Non lo prendo Non cadere giù Come l'altra volta Qui Diciamo mi posso pure riparare Ce n'è uno lì Da solo Così Che mi sta lanciando Infatti Sono morto Non ho il doppio salto Lei sa Il doppio salto Ero vivo E invece no Rimasto da solo Contro quei due Che sono saliti E due lì sopra E infatti Hanno vinto Quelli lì Con il doppio salto E non quelli con l'armatura Anche se sei più resistente Però Non puoi scappare Ovviamente qui Puoi cadere giù Non sono un po' troppo Che Che non va bene così Quindi Di nuovo Jumper kit E ci riproviamo Ci riproviamo di nuovo Dai 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 E nel frattempo Che ci riproviamo Voglio usare di nuovo L'ender pearl Veloce Vai Vola Verso l'alto Vado Andiamo Ok Prendiamo Qua Non cadiamo Nell'acqua Sai che Molti si mettono Anche qua davanti E vincono Tipo così E poi saltano Ecco Oddio Ho visto Dietro a quell'albero Buttato sopra però Quelli L'ho toccato Vai 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 L'ho schivato L'ho schivato Vai E ne lancio un'altra Preso Ho visto Ho fatto Ting Quindi significa Che l'ho preso Oddio Salto E scappo Stanno lì Tanto io lo so Dove stanno Voglio accumulare Un po' più Di TNT E poi buttagliere Di conseguenza Proprio così Una e una due E pure la terza Vai Sempre lì Perché so che sta lì Infatti Sta lì Eccolo Vai vai L'ho buttato proprio vicino a lui Vicino a lui Voglio accumulare Voglio accumulare Salto Mi nascondo qui dietro Perché voglio fare Ecco Ce ne sta già uno Da qui si vede meglio Dove vorrebbe scappare Il tipo Io lancio uno lì E un altro lì Sempre lì Dove sta l'albero Così lo circondiamo Dai che è nostro Lì Lui andrà lì Cacchio Si è tirato indietro Ecco E' caduto E' caduto Vai Abbiamo vinto di nuovo Seconda vittoria Seconda vittoria E che bello Sono diventando Sto diventando bravo E Dite la verità E siamo già arrivati Quasi a 3233 gemme No quasi Siamo a 3233 Quindi Penso che il kit migliore C'è quello base Alla fine Dove se invertirebbero le cose Sarebbe una gran cosa Invertirebbero le cose Sarebbe una gran cosa C'è Non so se mi spiego E noi nel frattempo Voleremo di nuovo verso l'alto Perché Perché E fa figo Che cosa ho fatto Vai Underpants No me le fa comprare Forza adesso Boh Non lo so Ciao Ecco ma al solito C'è qualcuno che compra le musichette Come si fa a comprare le musichette Forse devi votare Questo Ma Siamo per iniziare Una nuova avventura Ender Perry Ok Che cosa Non lo so Però Boh Siamo di nuovo qui Su quella nave Bastard Dove prima siamo morti Perché avevamo l'armatura Ma questa volta Non ci Faremo Fregare E faccio così Ecco Siamo qui Nell'alto dei cieli Fa un po' di lag E infatti Stanno tutti qui Quindi io lancio Vai vicino a quei due Bam Bam Anche quelli stanno lì sopra Io ce la lancio E gli arriva No non gli arriva Non gli arriva Quindi se non Io non riesco a farle arrivare Neanche loro Teoricamente Dovrebbero riuscirci Però se mi butto in avanti Così gli do la spinta Ma non gli arriva No non gli arriva Non gli arriva Però c'è quello lì Con il giallo lì sotto Che è Indifeso Possiamo dire Vai Ho fatto un salto in avanti Ce l'ho buttato a fianco Bam Morto Ed è morto Bastardo Bastardo No perché Perché Mi hai fatto questo Me l'ha buttato proprio a fianco È sceso giù proprio apposta Secondo me Da quello che non riesce a lanciare È qui signori È qui Bravo A fianco proprio Bam Morto Morto Questo voglio dire Adesso dove scappa Distruggire tutta questa zona qui Che se non potrà più scappare No Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta passare Eh qua è difficilissimo Adesso si mette qua Ah dovrà rimanere là Ok risalito Che dobbiamo qui sopra Ecco se si mette qua Qua non arrivano mai le TNT Secondo me è un errore che hanno fatto Ah colpito a volo A volo In volo Colpito in volo Vabbè però la mia squadra ha vinto Quindi qualche gemmina ci è arrivata Non possiamo lamentarci Non possiamo lamentarci Quindi adesso Credo che ci facciamo un'ultima partita E poi stacchiamo un po' il video Io direi che nel frattempo Lancerò TNT a casaccio Tra la gente Che morirà Stiamo giocando con le TNT Lanciamo le TNT Vai che bello Le esplosioni Ho finito le TNT Boom Ottima la nave Vi ricordate l'ultimo episodio? Ebbene si E' così Ok mettiamo qui E ci siamo Noi ci mettiamo in questa zona qui Così E lanciamo TNT Oddio Ce l'ho buttato giù Vaffan tripolo Ci hanno preso mentre saltavamo No Queste ultime due Ci è andata male Purtroppo Una volta Era salito qui Mi sono incastratone Lasciamo perdere Lasciamo perdere Questa che cacchio fa Ti lancio le TNT Se è lui E' morto Stanno solo quei due Ma solo questo Ed è morto anche questo No Fortunatamente si è staccato Vediamo Che incondizioni sta E' una bomba sopra E' una bomba sopra E' una bomba sopra Ecco Guarda qui quante TNT Gli arrivano E' ha preso danno E' morto Hanno vinto i redd Redd perro Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per la visione Invito come sempre Di iscrivervi al canale Alla pagina facebook A quella di google plus Da zerk E' tutto Ci vediamo In un prossimo video Cosa ne pensate L'intro? Vi torno nei commenti Ciao ragazzi Ciao ragazzi